del cane signori guardatelo primo giro secondo giro arriverà anche il terzo giro terzo giro guardate questa piccola bestia dai dai corri 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 signori guardate che pista che ha scavato e anche la in lontananza ce n'è un'altra guardatelo signori sarà il quinto fai corri dai pepe un cane da corsa signori e impegnati di più cane il padrone cosa da dire